Centro Ufficio, Viale Teseo Tesei a Porto Ferraio del Motoclub Isola d'Elba ai 222 protagonisti con ampio seguito del campionato italiano motorelli 2014. La manifestazione già da venerdì sera ha riempito Porto Ferraio e il resto dell'isola, tanto che è stato davvero complicato per tutti trovare posti disponibili in alberghi e ristoranti. Due le tappe, la prima, quella di sabato, prevedeva due prove speciali di navigazione e due prove spettacolo, i cosiddetti cross test che si sono svolti in un fettucciato all'interno del piazzale del cantiere navale Esaum. Vincitore della prima giornata è stato l'Umbro Andrea Mancini, che ha approfittato di una caduta del favorito Alessandro Botturi per prendersi un minuto di vantaggio che ha conservato fino a fine tappa. La seconda giornata era articolata su una prova speciale lunga, quasi 40 km, da Literno a Santo Stefano a Letrane, passando attraverso luoghi mitici del motorismo urbano come il curvone delle picchiaie e su altri due cross test che avevano in palio per il miglior tempo delle quattro manche dei due giorni, un weekend napoleonico, un soggiorno nel fine settimana della rievocazione del bicentenario dello sbarco dell'imperatore all'Elba. A fare da padrone, ristabilendo i valori in campo, è stato il pilota bresciano di Lumezzane Alessandro Botturi, che ha dominato sia la prova di navigazione che la prova spettacolo, aggiudicandosi la Napoleon Cup. Nella classifica di giornata della seconda tappa, gloria anche per l'Elbano di adozione Fabio Fasola, vincitore qui lo scorso anno, capace di risalire fino al secondo posto finale assoluto, scavalcando lo stesso Andrea Mancini. In gara anche un Elbano puro sangue, Paolo Tortora. Pilota attitolato su pista, al suo esordio nella specialità del motorelli Paolo se l'è cavata abbastanza bene, con un 47esimo posto nella prima giornata che ha migliorato poi nella seconda, risalendo fino alla 43esima posizione. La manifestazione si è conclusa con una festosa cerimonia di premiazione nel centro storico di Portoferraio che ha fatto da cornice e da base logistica all'evento.